Buongiorno, mi chiamo Svetla Vasileva e interpreto Manolo Esco della fantastica opera di Puccini in questo stupendo teatro di Tokyo, New National Opera Theatre Tokyo. Per me è l'opera preferita, è la mia opera preferita, la adoro. E comunque amo tutto Puccini, è il mio compositore più amato. E dunque non può non avere fascino perché parla di un grande amore, immenso amore tra due persone. E poi Manolo Esco è il personaggio femminile, forse per eccellenza, il personaggio più femminile che esista, ecco. Io la vivo, io non posso stare esternamente dal personaggio e cercare di interpretarlo, no? Io lo vivo, io sono dentro assolutamente. E poi, non lo so, probabilmente ho tanto di Manon perché per me non è difficile immedesimarmi nel personaggio. Anzi, potrebbe rappresentare una difficoltà proprio perché dà tantissime emozioni vivendolo. Beh, effettivamente sono forse precise quattro anni perché era lo stesso periodo anche. Ma evidentemente se siamo qua siamo molto ottimisti. E significa che le nostre energie sono positive e che questo spettacolo, diamo tutto l'amore per questo spettacolo e vogliamo che veramente tutto il pubblico se lo goda perché è uno spettacolo molto bello.